You got her involved just for that? Vito, you were an insensi. No, noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazza. Allora, sei pronto per il tuo destino? Allora, che mi ha esbloccato? Allora, che mi ha esbloccato? Ammanino, uffio. Uffio, scur... Oh? Allora, che si scape! Ma quanto è legal? Vabbè, sì, lui fa... Già il potercio. Vabbè, ma è legal. Perfetto, il giro. Guarda. Ma stai vedendo? Ok, ho fatto... Devi fare esse. Rango esse con me. No. Ha fatto questa l'altra volta qua del liceo. Sì, ma fa... Ma è legal, non c'è. Ma ora vi potremmo apprezzare il potere, allora. Wah, wah, wah! Eh beh, lui è già forse. Penso alla... L'Ambra che deve recuperare nel corso. È già forse che si. Mi ha assotto letta la roba questa cosa. Allora... A ver. Quanto è legal a West. Allora... Ma guardi poter di West. Quanto è legal. Allora... c'è la corsa di risposta Cioè non c'è bisogno nemmeno di scattare con lui, guarda La faccio questo Guarda, guarda Guarda, guarda Raga, ci sono 7 che sballano questa cosa qua Da una volta la scattavano qua sentissimo Cioè non c'è bisogno di scattare la mano per farlo Non è certo, non è così C'è un'altra cosa, ma non è un'altra cosa 2 colti? no, è troppo legale questa e ora che è passato i verdi no, no, non vorrei ah, ma non c'è vita? ma? è legale ma non c'è vita che non è effetto? un cazzo non è effetto un cazzo Sì, ma se lo sai 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 Sì, ma se lo sai